Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo all'interno del Residence di Valle Verde e stiamo per presentarvi questa nuova acquisizione. Si tratta di una bifamiliare cielo-terra, piano terra e primo, tanto vi sto facendo vedere la vista, lago del Turano e colle di Tora. Ingresso indipendente, parliamo di una bifamiliare piano-terra e primo piano, ovviamente sviluppata su due livelli, con un bel giardino attrezzato, quindi che ci arrivano le utenze, vista lago, in una posizione comoda, perché come potete vedere i parcheggi sono proprio ad un passo e non ci sono tantissime scale per raggiungere l'ingresso. Essendo una bifamiliare il giardino gira su tre lati della casa, questo è un lato, poi abbiamo il laterale e ovviamente l'intercapedine sul retro, comunque la utilizzano per deposito ed altro. Ci troviamo appunto nel comune di Ascrea, Valle Verde di Ascrea. Allora, questo è un angoletto di ristoro davanti alla porta, si può tranquillamente sfruttare per mangiare all'aperto, con l'ombrellone. Allora, entrando, troviamo un soggiorno, un ampio soggiorno, con il cammino giù in fondo, ok? Quindi un ampio soggiorno con le scale che poi ci conducono al piano superiore, che ora vi farò vedere. E qui c'è il cucinotto, eccoci qua, l'immancabile camino, ogni locale, come potete vedere, è finestrato. Questa è una panoramica generale del soggiorno, ok? Si sale al primo piano, accedendo da queste scale, vedete tutte rivestite in legno. Eccoci qua. E troviamo questo disimpegno che separa i vari locali. Entrando abbiamo una prima camera, un'ampia camera matrimoniale. Faccio una panoramica. Un'ampia camera matrimoniale con accesso sul balcone, che abbiamo visto anche da sotto. Con accesso sul balcone, con vista lago. I proprietari mi hanno garantito che per questa pianta si provvederà alla protatora, quindi si avrà una vista lago ancora più aperta. Poi abbiamo una cameretta, sempre finestrata, una seconda camera matrimoniale. Facciamo una panoramica. Facciamo una panoramica. Eccoci qua. Una seconda camera matrimoniale, sempre con la sua finestra. Ed infine, abbiamo il bagno. Eccoci qui. Il bagno, con ampia doccia. Come potete vedere, l'immobile è in ottime condizioni. E verrà lasciato parzialmente arredato. Con questa vista vi lascio, ricordandovi che per ogni delucidazione potete controllare sul nostro sito. Grazie, Franchi Immobiliari. Grazie, Franchi Immobiliari.